e poi c'è un bel video per la pagina, approfittando del fatto che siamo disposti qui ciao raga, poi dopo si vede un po' di foto, ok? mentre gli sposi sono occupati con le foto la sala si sta riempendo piano piano, basta guardate un po' prima erano tre, adesso non, uno, due, 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 due diciamo che è una bella decina di solo, ok presto allora ragazzi Grazie a tutti.